Quando ho visto Nostolar per la prima volta mi sono sentito da una parte a casa e dall'altra parte ho sentito subito il piacere e il dovere di doverlo condividere con altre persone anche perché credo fermamente che la condivisione sia l'ingrediente fondamentale per poter lavorare tutti in unione di intenti verso il non obiettivo affinché si possa cambiare questa umanità, migliorarla e contribuire quindi all'evoluzione di questo mondo. Per questo voglio anche dare i miei omaggi a tutte le persone che hanno lavorato per la realizzazione del film e soprattutto anche a Cico Xavier per quello che è stata la sua vita, il suo impegno e il coraggio che ha avuto per fare quello che ha fatto. Grazie 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 Grazie